E torniamo qui alla Web TV, siamo in compagnia di Mattia, Mattia Signorini, che ci ha detto prima che fondamentalmente ti senti a casa, no? Ritorni dopo tre anni in un luogo a te consono e che ti piace tanto, insomma, in famiglia fondamentalmente. Beh, Sherwood è sempre stata un po' una famiglia, già da... Dicevo, purtroppo è tre anni che non venivo a Sherwood, però prima quando abitavo a Padova ero sia qua sia alla radio e che non può che lasciarti dentro qualcosa se ci hai attraversato un po' di anni della tua vita. Alla fine è una grande famiglia con tutte facce amiche quando ci si ritrova. Sei qui e presentiamo Ora, che è il tuo nuovo romanzo, edito da Marsilio, e un po' sfogliandolo, leggendolo, può ricordare anche un po' quello che stiamo vivendo un po' tutti con la crisi, nel senso che due fratelli che si muovono, perché perdono lavoro fondamentalmente, da grande città, ritornano al paesino in un percorso anche molto introspettivo, ma che, insomma, è la crisi che fondamentalmente li ha mossi, per cui si spostano e quindi potrebbero riconoscerci molti delle persone che penso siano andate, che ne so, a Milano, come hai fatto anche tu, per poi invece vedersi costretti a tornare al paese per una questione anche economica, inizialmente, no? Sì, no, mi interessava raccontare, attraverso la storia di Ettore, che è il protagonista, la difficoltà che stanno attraversando tante persone, cioè quella di non avere più punti di riferimento in un'Italia che è anni che si sta disgregando, ma adesso sta letteralmente crollando, attraverso un romanzo molto intimo, perché poi credo che i grandi disagi sociali si vivano nelle vite di tutti quanti. Sì, dicevo che poi, tra l'altro, quello che è bello è che diversamente dall'intimo a cui si pensa, per cui è una coppia, che ne so, donna uomo, che vivono assieme, qui è fratello e sorella, con la sorella che è incinta e si trovano in restrettezze economiche perché hanno perso entrambi il lavoro, quindi un livello ancora più intimo perché è quello della famiglia, con i genitori che sono morti poco prima, un anno prima di incidente stradale. Beh, ora è un romanzo sulle parole non dette, è anni che giro attorno a questa idea, cioè il fatto che capita soprattutto tra persone molto vicine, non necessariamente in famiglia, che per piccole incomprensioni, queste piccole incomprensioni diventano silenzi che ci portiamo avanti mesi e poi anni e quando vogliamo ricucire i rapporti ormai non ce la facciamo più perché si è messo troppo in mezzo a noi. E forse il luogo dove capita nel modo più violento e peggiore è quello della famiglia. Ettore aveva, dopo un fortissimo litigio con questo padre, il libro ambientato in questo paesino sugli argini del Po, immaginiamo un paesino di mille abitanti dove l'unico valore è ancora quello del fare con le mani, della durezza d'animo, del non parlare. Insomma, dopo questo forte litigio col padre, quando lui aveva 19 anni, nel libro ne ha trenta, se n'è andato portandosi via sua sorella a cercare la fortuna in una grande città come Milano. E un anno prima dell'inizio della storia, proprio mentre i genitori hanno deciso di fare questo grande passo, cioè di andare a recuperare i figli, sono morti da un incidente stradale. E adesso loro, al decimo piano di questo appartamento della periferia di Milano, insomma perché c'è stato è un incubo, sono grandi dormitori in cui non c'è nemmeno un bar o un'edicola sotto, si trovano costretti a vendere l'unica cosa che li lega ai genitori, che è la casa dove abitavano quando erano piccoli. Solo che Ettore quando ritorna è costretto a rimanere una settimana, perché la casa soprattutto in riva al Po, sugli argini del Po, insomma con la forte umidità che c'è è completamente da rimettere a posto. E rincontra tutte le persone che aveva lasciato, che però sono completamente cambiate, perché il tempo ci porta via non solo da noi stessi, ma anche da chi avevamo vicino, abbiamo scelto di lasciare andare. Che è un po' quello che gli aveva detto il papà quando avevano litigato, cioè non si vive né per il passato né per il futuro, ma per ora, quindi quello che lasci qua sappi che insomma l'hai perso. È un po' anche, non so, nel Cesare Pavese, la luna in falò, lo sradicamento, è quello il tema che ritorna anche un po'. Sì, è l'idea che ogni scelta che facciamo nella vita ce la portiamo dietro per sempre. e l'idea che è necessario essere coerenti con quello che siamo in un determinato momento, nel nostro ora, perché molto spesso passiamo la vita ad essere legati a quella grande tenaglia che sono gli episodi spiacevoli del passato, quello che non ci perdoniamo. Oppure passiamo anche la vita appoggiati a quella piccola finestrella che è il futuro, fatta di speranze, di pessimismi, e ci dimentichiamo che il nostro futuro lo creiamo vivendolo adesso, ma anche vivendo fortemente il tempo che abbiamo possiamo riconciliarci con il nostro passato. E la figura di Esther, come mai? Li fai incontrare? Cioè, da dove ti è nata l'idea? Questa figura che quasi ha deciso di abbandonare fondamentalmente quella che è la vita, nel senso di non trovare più neanche la forza poi di affrontarla? Ma volevo raccontare una forte storia di amicizia, ma tra persone molto diverse. Credo che facciamo molta fatica ad ascoltarci. Un po' tutti i miei libri raccontano questa cosa qui, che le persone non si ascoltano più. E soprattutto siamo incapaci, credo, di ascoltare chi vive in un'epoca, in una generazione molto diversa dalla nostra. Quindi ora è una storia che attraversa le generazioni, cioè il rapporto di un figlio con un padre, ma anche dell'incontro con questa signora anziana che vive da tutta la vita con i piedi a mollo nell'acqua del Po, capelli bianchi, lunghi, una tunica bianca, e guarda questo punto indefinito nell'acqua, che nessuno in paese sa cosa guarda, la credono semplicemente una vecchia matta. Per me è un po' Esther come una dea del fiume, però la dea del fiume è di tutte le leggende o dei laghi, sono giovani e belle, ma anche la bellezza quando ti attraversa il tempo viene portata via. Ecco, volevo raccontare appunto questa amicizia tra un ragazzo che non ce la fa più a guardare avanti è una signora anziana che è tutta la vita che guarda dietro di sé e di come queste due persone molto diverse provano a salvarsi. E tu invece a livello biografico, visto che ti sei spostato anche tu da Milano, sei tornato a Rovigo, ti è diciamo balenato il pensiero mentre lo scrivevi, il libro, il fatto di tornare qui, o ci sono stati altri motivi? Cioè qual è stato il tuo desiderio che ti ha spostato? Perché non era una questione economica la tua, era proprio un tuo desiderio di ritorno qui. Sì, ma io ho scritto il libro in realtà a Milano, felicissimo di vivere a Milano. Appunto, per questo dico. Però c'era già qualcosa che non funzionava dentro di me, è uscito un bellissimo film, La grande bellezza di Sorrentino, che racconta molto bene quei mondi, il mondo della grande città, il mondo illusorio che da un lato ti toglie tantissimo perché ti svuota, dall'altro però ti tiene legato a sé. Perché ti stimola. Io, che credo di essere un provinciale da sempre, un po' ci stavo bene, ma un po' ci sono sempre stato male. Però è solo quando ho finito di scrivere il libro, quando è uscita proprio la prima stesura, che poi ho rimaneggiato un milione di volte dalla stampante, che sono le stesure che capisce solo che le ha scritte, e che se qualcuno le leggesse non ci capirebbe probabilmente nulla. Quando ho letto questa prima stesura ho capito che era stato scrivere questo libro come andare un anno dallo psicologo. Una autanalisi fondamentalmente. Esatto, e ho deciso, ho capito che mi stava dicendo torna dalle tue parti. In più, ho cambiato gruppo editoriale, questo è il gruppo Rizzoli, RCS, e la cosa pazzesca è che tutte le case editrici del gruppo Rizzoli sono a Milano, tranne la Marsilio che a Venezia. Quando mi ha chiamato la Marsilio e quando ho incontrato Cesare De Michelis, che è l'ultimo dei grandi editori italiani, cioè quelli che hanno fondato le case editrici, quelli che conoscevano Calvino, amici di Bonpiani, di Einaudi, insomma, una figura che per me in un mondo di marketing dove anche quando hai a che fare con i libri, con i dischi, con il cinema, ti parlano molto spesso del tuo libro come un prodotto da vendere, lui invece mi ha parlato di due cose. Per quanto riguarda il mio libro ha fatto un discorso sulla letteratura, e poi quando ho conosciuto questa persona di grande struttura mi ha parlato di resistenza, della resistenza che dobbiamo ancora tenere e che è necessario tenere per non perderci e per essere appunto salvi. E quindi io ho deciso di andare da... Ho firmato per questa casa editrice e quando sono uscito ho detto è l'energia, il karma in qualche modo che mi sta portando a ritornare in Veneto. Tornando in Veneto, anche con un altro artista, stai per collaborare in particolare con Giulio Casale, se siete presenti questo nuovo spettacolo, come vi siete incontrati e come avete deciso insomma di creare la febbre dell'ora? Ma con Giulio Casale è un'amicizia che dura da tantissimi anni, perché io anni fa gli presentai un libro semplicemente, e addirittura ero un po' restio, perché ho detto ah, il solito cantante che scrive un libro, si chiamava Intanto Corro ed è una raccolta di racconti pubblicata per Garzanti bellissima, e da lì è nata un'amicizia, perché poi per me Giulio Casale era un po' la mia adolescenza, era gli Estra, e quando l'ho incontrato è scattato qualcosa, eravamo due persone che erano andate via da un posto, e due persone che erano entrambe sradicate, non sapevano bene a chi appartenevano, né alla grande città e né al piccolo posto, e di Giulio mi è sempre piaciuta questa idea di, come è il suo ultimo disco che si chiama Dalla parte del torto, cioè di essere dalla parte del torto, di sostenere le proprie idee anche quando questo ci nuoce, che è l'unico modo che abbiamo ogni mattina di alzarci e di guardarci allo specchio. Quindi quando poi quest'estate c'è questo festival che si chiama Storie Note, che è qui a Padova, che dura una giornata, mi ha chiamato il direttore del festival, mi ha buttato lì la cosa, ho detto perché non fai qualcosa, ci piacerebbe mettere insieme te e Giulio Casale, e noi era due o tre anni che parlavamo di fare qualcosa insieme, allora ci è venuto in mente di creare uno spettacolo ibrido, cioè prendere il suo ultimo spettacolo teatrale, che è attraversato dalle canzoni del suo ultimo disco, visto che adesso lui vive tra musica e teatro, e mischiarlo con delle suggestioni da questo libro, cioè da quelli che sono i personaggi secondari, i personaggi di paese che sono poi le vere persone che hanno affrontato, io li chiamo gli umili, gli umili in un'accezione estremamente positiva, sono le persone che lottano ogni giorno per essere se stesse, per fare della loro vita una vera vita, e sono i discorsi che ci facevamo sempre davanti a un bicchiere di vino, davanti a una birra, quindi è capitato il libro giusto, il disco giusto, il momento giusto, e quindi adesso lo faremo a Padova, lo stiamo scrivendo e sistemando adesso, e poi lo portiamo a Milano, e poi così è un esperimento, qui il 29 giugno, e invece visto che parliamo di cose giuste al momento giusto, come mai l'idea della scuola di scrittura, della scuola Palomar? Perché quando ero a Milano, ho avuto la fortuna, per l'agenzia che mi rappresenta, come scrittore, che è un'agenzia molto grossa, di realizzare un po', di rispondere alla promessa del ragazzo, che aveva vent'anni, cioè quando avevo vent'anni, mi ero detto, se un giorno pubblicherò un libro, leggerò tutto quello che mi arriva, ora questo è abbastanza difficile, però quando mi sono trasferito a Milano, e sono andato nello studio della mia gente, mi sono accorto che aveva una stanza intera, ma realmente, con tutti i libri sparsi per terra, che erano libri di persone, che avevano riposto una fiducia, in questo mondo così piccolo e stretto, e che però erano su un pavimento, e io le ho chiesto di fare una scommessa, proviamo a, posso provare a leggerli io, poi se trovo qualcosa, ci lavoro, non so nemmeno come si fa, le avevo detto, lo facciamo, se poi parte, ci creiamo dietro un lavoro, e in questi anni ho scoperto, 5-6 scrittori esordienti all'anno, lavorando proprio a stretto contatto, 1-2-3 mesi, giorno e notte, sono scrittori che poi sono stati pubblicati, tutti da grossi editori, quando me ne sono tornato indietro, la mia gente mi ha detto, è nata con te questa esperienza, e finirà con te, a meno che non ti inventi qualcosa, e lì mi è stato dato il là, insomma, l'idea di continuare, non più un rapporto uno a uno, con questi ragazzi, ma un rapporto magari uno a dieci, in questa scuola, che durerà un anno, l'idea è proprio quella di scrivere un romanzo, fianco a fianco, e poi i migliori verranno presentati, ai grossi editori, e rappresentati da questa agenzia, perché la mia idea è, certo, chi scrive si esprime, e deve farlo prima di tutto per se stesso, anche per capire se stesso, però poi è bello dare uno sbocco, perché altrimenti, non ce ne facciamo niente di mondi chiusi, e non ce ne facciamo niente del fatto, che quando qualcuno ci entra, poi chiude la porta, gli altri che devono venire. C'è qualcun altro che bussa la porta, stanno per cominciare lì a Spagna Circo Est, quindi Mattia, ti ringraziamo, andiamo a sentirli, e poi ci sono i modi, grazie a voi, grazie a voi, Grazie.